sono uguali però vabbè è un lavoro che non va disperso reso possibile in questi mesi dall'impegno che Giuseppe Conte ha portato avanti con grandissime capacità e con serietà questo per leccare ultimamente il culo dato che appunto Conte si è schierato palesemente contro Salvini e Pro 5 Stelle dato che nel suo famoso intervento non l'ha criticato minimamente questa per me è una cosa abbastanza scandalosa ha portato avanti con grandissime capacità ok, una piruetta dialettica in altre parole, questo appunto è libero per giustificare quella politica tu che ne pensi? secondo me si è vero certo in altre parole, ok a buon intenditore, poche parole basta un click adesso apriamo quell'altro ma quanto dura sta cosa? ecco, ben perché lo furioso per Russo telefona da casa